Allarme al Tribunale di Palermo dopo le minacce intimidatorie dal procuratore Scarpinato si teme un attentato all'interno della sede giudiziaria al via nuove misure di precauzione. Castellammare ha presentato il programma estivo frutto di una grande organizzazione di collaborazione con sponsor privati dal 1 giugno al 21 settembre a Castellammare sarà sempre festa. Partinico dopo aver scoperto le irregolarità sugli elenchi del servizio civile il partito della rifondazione punta il dito sull'amministrazione e suggerisce la buona condotta da seguire per il futuro. Carini la piazza antistante al campo di calcio Pasqualino intitolata Vito Russo carabiniere carinese decorato con medaglie al valor militare per i suoi gesti eroici in guerra. Buonasera e bentrovati a studio TV7 oggi il 29 maggio giovedì 29 maggio dunque nuovo allarme al Tribunale di Palermo si teme addirittura un attentato troppe le minacce intimidatorie negli ultimi mesi adesso ad intervenire con misure più forti e lo stesso procuratore giudiziario. Una lettera di minacce al procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato e al dirigente dei carabinieri del Tribunale e allarme al Palazzo di Giustizia di Palermo secondo indiscrezioni e fonti confidenziali che gravitano in ambienti della criminalità organizzata si è parlato in dettaglio di un imminente progetto di attentato all'interno del Tribunale. La notizia è stata confermata in ambienti giudiziari attenzione è pronto un regalo scoppiettante per il procuratore Scarpinato e il dirigente dei carabinieri del Tribunale questo è quanto si legge nella missiva firmata PRA sigla ancora sconosciuta. Il comitato provinciale per l'ordine pubblico si è riunito ieri d'urgenza per discutere l'adozione di nuove misure di sicurezza. Alla riunione hanno partecipato esponenti delle forze dell'ordine e il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando. Da mesi i magistrati palermitani sono nel mirino di minacce e intimidazioni dagli atti intimidatori anonimi con indizi dettagliati persino sugli spostamenti del PM Nino Di Matteo alle parole del Bosto Torrina contro il PUL che indaga sulla trattativa statomafia, minacce che hanno fatto scattare il potenziamento delle misure di sicurezza sia per Di Matteo che per il PM Vittorio Teresi, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia ed hanno indotto il procuratore di Palermo a vietare ai non addetti ai lavori l'accesso all'ala del tribunale in cui si trovano le stanze di alcuni PM della direzione distrettuale antimafia. Intanto l'Ars approva la manovra correttiva da adesso in poi. I manager e i dirigenti regionali non potranno però più guadagnare oltre 160 mila euro l'anno e credo che possano comunque farcela. Con 48 voti a favore e 14 astenuti l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la manovrina che consentirà il pagamento degli stipendi per oltre 35 mila lavoratori della regione. Ben 109 milioni di euro saranno destinati a denti, consorsi e associazioni che però faranno fronte alle esigenze di un solo mese. Oltre giugno infatti occorrerà studiare delle soluzioni strutturali da inserire nella prossima finanziaria BIS. Tra le riforme più importanti c'è poi il tetto massimo agli stipendi di dirigenti, manager e burocrati regionali che non potranno guadagnare più di 160 mila euro l'anno. Ci limitiamo a chiedere di porre un tetto al di sopra del quale nessun dipendente pubblico in Sicilia possa guadagnare, ha detto l'esponente del PD Antonello Cracolici. Infine la manovrina ha affrontato anche il tema degli sportelli multifunzionali con il Ciappi di Priolo che per progetti specifici potrà stipulare contratti a tempo determinato ma in regime di lavoro subordinato. Intanto, mentre l'Ars era impegnata a Palazzo dei Normanni, la Corte dei Conti siciliana si è espressa sulla vicenda delle spese pazze dei gruppi parlamentari regionali. Solo quattro gruppi infatti, tra questi Movimento 5 Stelle, Lista Megafono, Lista Musumeci e Gruppo Misto, sarebbero risultati in regola, mentre la spesa irregolare e più elevata è quella del PDL, ben 652 mila euro. I giudici hanno contestato inoltre spese per 1,5 milioni di euro a 12 gruppi parlamentari, tra questi MPA-PDS, UDC, PD e molti altri. Cambiamo argomento, sequestrati nel porto di Balestrate, tre esemplari di tonno pregiatissimo, tonno rosso, poiché privo delle autorizzazioni previste dalla normativa di legge. La Guardia Costiera di Terrasini, in collaborazione con la Polizia di Stato di Partimico, in un'operazione volta al contrasto della pesca e della commercializzazione illecita, ha sequestrato alcuni esemplari di tonno rosso, poiché privi delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore e pescati in un porto non rientrante, tra quelli designati a tale attività. Nello specifico, le pattuglie hanno colto nel porto di Balestrate il flagrante sbarco di tre esemplari di pregiato tonno rosso di circa 600 kg. Il prodotto ittico è stato sottoposto alla previa valutazione in termini di idoneità al consumo umano da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria provinciale di Carini e sarà venduto all'asta. I proventi di tale vendita confluiranno nelle casse dell'erario, una volta definiti gli eventuali gravi giudiziari. La sanzione amministrativa, combinata, ammonta circa 4.000 euro. L'attività posta in essere è da inserirsi nel contesto dell'opera di contrasto alla pesca illegale, soprattutto di una specie di pregio e soggetta a contingentamento qual è il tonno rosso e dimostra ancora una volta come l'attività sinergica delle varie forze dell'ordine sul territorio sia sempre vincente. Adesso parliamo di partenico. Ieri vi abbiamo raccontato con un servizio che sono state scoperte delle irregolarità nella lista che segnava i lavoratori al servizio civico. Si tratta di un lavoro saltuario e occasionale, tra l'altro non pagato benissimo, poche ore di lavoro per tre mesi, ma due consiglieri di Cambiamo Partenico, Valentina Speciale e Gianluca Ricupati, hanno scoperto delle palesi, irregolarità e quindi hanno invitato, adesso invitano l'amministrazione ad un maggiore controllo e suggeriscono anche le linee guida che sarebbe opportuno seguire per evitare irregolarità che poi vanno comunque a discapito dei cittadini. Dopo aver scoperto delle palesi irregolarità, confermate anche dal segretario comunale, sull'elenco dei beneficiari del servizio civico, i consiglieri Valentina Speciale e Gianluca Ricupati sostengono che è il momento di dire basta, non è possibile continuare a far finta di niente, bisogna mettere un freno allo strapotere dell'amministrazione che troppo spesso agisce incontrollata. È necessario ed urgente stabilire dei criteri che garantiscano la regolarità delle azioni amministrative nell'interesse della collettività. Queste irregolarità sono state accertate, non sono più delle illazioni dei consiglieri speciali Ricupati? Intanto c'è da dire che noi non è che ci svegliamo un giorno, andiamo in un ufficio e guardiamo le carte, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni per cui il nostro compito è anche quello di controllare le segnalazioni che ci vengono fatte e noi l'abbiamo controllata, abbiamo verificato queste irregolarità che erano molto evidenti e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di coinvolgere il segretario generale che comunque è il garante della regolarità e della legge è informare subito il caposettore che comunque si occupa di queste cose. E qui abbiamo la risposta sia del segretario che accerta quello che noi diciamo e sia del caposettore che dice sì effettivamente ci sono delle irregolarità molto evidenti per cui accolgono la nostra proposta di rivedere la graduatoria. Rivederla non soltanto per una questione comunque di legalità e di giustizia ma anche perché si tratta di persone che hanno tutte comunque bisogno ma c'è chi evidentemente ha più diritto rispetto agli altri. Noi proponiamo che si cambi il sistema del controllo perché appunto come diceva Valentina non si tratta soltanto di una questione di astratta legalità seppur importante, si tratta di dare ai più bisognosi, a quelli che veramente oltre gli altri hanno più requisiti per accedere a un sistema di sostegno possono avere risposta ai propri diritti. Questa per quanto riguarda è a tenere controllo quindi non si faccia un controllo a campione molto generico ma almeno a coloro che risultano vincitori le documentazioni vengano controllate per non mancare di rispetto e di diritto diciamo a coloro che stanno sotto coloro che vincono e che probabilmente hanno ugualmente bisogno forse di più di... Scusami consigliere ma un controllo sui controllori non sarebbe auspicabile? Cioè su chi effettivamente deve fare queste assegnazioni? Di fatto noi abbiamo fatto proprio questo nel senso che abbiamo fatto l'atto ispettivo proprio per questa motivazione. Ovviamente l'abbiamo fatto sulla base di alcune segnalazioni. Se non ci fossero state probabilmente non l'avremmo fatto. Quindi la seconda proposta che noi facciamo è che queste quando vengono state delle gradatorie che richiedono delle documentazioni e così via si convolga una commissione consigliere come la prima che si occupa di affari generali si mandino le carte anche in quella commissione cosicché tutti i consiglieri maggioranza e opposizione possono verificare e svolgere il loro ruolo ispettivo. La terza proposta è una proposta prettamente politica. Non si può più accettare che in un comune di 30.000 abitanti e passa soltanto diciamo attraverso il volontariato delle associazioni, della chiesa e così via si dia sostegno vero a quelle che sono diciamo le persone che più hanno bisogno e che meno sono state fortunate finora nella vita. Bisogna rafforzare le politiche di sostegno sociale nei confronti di queste persone. Come fare? Potrebbe risultare una proposta anche abbastanza strumentale invece non lo è perché noi abbiamo calcolato per esempio che per raddoppiare il numero di posti disponibili quindi dare queste due ore di lavoro giornaliero che sono più o meno 200 euro al mese nulla ma sono pur sempre una cosa a altre 50 persone basta che il comune stanzi autonomamente 32.000 euro. Non è una grande cifra per il comune di Partinico e si può ricavare subito anche domani mattina se solo accettassero la nostra proposta di ridurre per esempio il 30% dei gettoni di presenza e delle indennità recupereremmo almeno 50.000 euro. Ecco questi 30.000 euro si potrebbero trovare quindi in 10 minuti e faremmo un favore a tutti questi che sono persone che hanno dei diritti non sono soltanto persone che devono essere trattate anche con tutte le disparità del caso che abbiamo accertato perché poi a un certo punto si distinguono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Restiamo a parlare dell'argomento perché abbiamo intervistato anche un componente di rifondazione comunista un componente storico Toti Costanzo che è entrato nel minimo che si potesse fare anche nella questione morale di quello che succede al comune di Partinico. Trattandosi di cifre irrisorie, trattandosi di gente che davvero ha bisogno è il caso di parlare a tuo giudizio di puro e mero clientelismo? Sì insomma ma di bassa lega è proprio una cosa miserevole ma il fenomeno del clientelismo a Partinico da quando si sono insediate le giunte di Lobbiundo è diventato un fenomeno diffuso insomma anche molto pesante e che insomma non si manifesta soltanto con la piccola illegalità che viene riscontrata con la falsificazione delle gradatori quindi c'è una questione morale che va oltre c'è l'aspetto, questa questione delle gradatori è come dire l'aspetto marginale rispetto diciamo a un problema più grave che appunto attiene alla questione morale nel nostro paese. Cito alcuni esempi tanto perché ci si possa comprendere quando noi abbiamo rilevato che le concessioni alla Policentro noi abbiamo ritenuto che non erano legali o quantomeno andavano in uniformità rispetto alle leggi si tratta di una questione molto grave e lì c'è anche il coinvolgimento della regione perché voi che fate informazione me lo potete ricordare venendo l'assessore, sono venuti i tecnici, l'edificio insomma il famoso tavolo tecnico benissimo, noi continuiamo a dire che per esempio che quella questione era una questione di cui nessuno più parla perché è stato un grande fallimento, un blef tutto quello che vogliamo noi ma lì c'era la radice, c'era una questione su cui non è stata data una risposta quando noi abbiamo detto che l'insediamento dell'aggiunta all'obbiunto coincide con il trasferimento delle risorse idriche che non è che si tratta le cose del babbio le risorse idriche sono milioni e milioni di euro che escono dalla tasca dei cittadini e immediatamente le risorse del nostro comune sono state trasferite a questa società PS che ora è in fallimento come in fallimento fu la servizio comunale di cui parlava già Luca sulla questione dei rifiuti e per cui anche allora ci fu per esempio il consiglio comunale che disse al sindaco riprendiamo in mano il servizio no, la stessa cosa avviene con le risorse idriche così come ci sono delle concessioni la domanda di Franco Urbano è sempre in picco lì c'è un interesse quando si respinge la proposta dei consiglieri comunali che dicono guardate che la SERIT è uno strozzino che impedisce ai poveri di poter pagare anche la multa perché diventa, si triplica, si quadrupa diventa ossessiva insomma e noi diciamo riprendiamo in mano il servizio di gestione del riscossore dei tributi cioè cosa che è possibile perché l'hanno fatta a bagheria insomma, allora tu perché no? perché dici sempre di no? no? perché per esempio insomma non è sospetto il fatto che ci sono candidati alle ultime elezioni del comune di Partenico che poi stranamente ricevono vantaggi di diverso tipo collocazione, incarichi no? allora tutto questo è un grumo che va oltre la questione della... considerato che la questione è complessa non sarebbe il caso di iniziare a prendere i provvedimenti nei confronti di coloro i quali per sbadataggine hanno già commesso queste irregoletà per disattenzione con il piccolo incarico del servizio civile cioè se non si punisce mai nessuno questa è una maglia che... non si tratta di sbadataggine c'è una strategia c'è una strategia che ricalca esattamente il modello di gestione della cosa pubblica come cosa di un gruppo di potere così come avveniva nella prima repubblica ai tempi della vecchia democrazia cristiana non a caso adesso parliamo di un PD che alzano le se non una rivisitazione di quel partito allora ci sono gruppi di potere che per potere diventare potenti e avere potere ulteriore hanno bisogno di creare le sacche di clientela di condizionamento e di affari Beh, credo che abbia detto insomma tante verità nel suo discorso di Costanzo vedremo un po' cosa succederà dopo questo appuntamento sulla questione morale e allora un appello adesso appello a chi l'ha visto per denunciare la scomparsa di una giovane di San Giuseppe Iato Concetta Conigliaro 27 anni si è allontanato dal paese facendo perdere le sue tracce la scomparsa è avvenuta addirittura il 9 aprile scorso ma la famiglia ha deciso di rivolgersi alla trasmissione televisiva in onda su Rai 3 la vedete adesso in foto tra l'altro una bella ragazza dagli occhi grigi al momento della scomparsa la giovane che ha i capelli castani gli occhi azzurri allora la foto inganna indossava una giacca rossa ed un paio di jeans si chiama Concetta Conigliaro a 27 anni manca da casa a San Giuseppe Iato dalle 9 aprile scorso stavo pensando che i familiari si sono rivolti a Rai 3 ma perché non alle tv locali insomma subito dopo la scomparsa le tv locali hanno un panorama secondo me più capillare rispetto a Rai 3 vabbè auguriamoci che si trovi adesso spostiamoci a Carini da San Giuseppe Iato perché questa mattina è stata intitolata alla piazza distante al campo Pasqualino ad un eroe carinese un ragazzo morto a 28 anni pensate per le ferite subite in guerra un po' dimenticato adesso è riscoperto grazie ai carabinieri in congedo l'amministrazione questa mattina gli ha dato il giusto riconoscimento un bel tributo intitolandogli questo spazio questa piazza antistante il nuovo stadio cerimonia di intitolazione questa mattina a Carini del piazzale antistante lo stadio comunale Pasqualino al brigadiere dei carabinieri Vito Russo decorato di due medaglie di bronzo al valore militare nella prima guerra mondiale il sindaco di Carini Giuseppe Agrusa ha anche scoperto una lapide commemorativa chi era Vito Russo? forse poco conosciuto ma è stato davvero molto valoroso era intanto era un carabiniere che si è realizzato nei primi anni 90 del 1900 ha partecipato alla guerra alla prima guerra mondiale quindi la quarta guerra del risorgimento così chiamata e quindi durante la guerra lui è rimasto ha fatto diversi atti eroici ed è stato decorato di ben due medaglie di bronzo al valore militare e di un encomio solenne da parte dell'amministrazione militare le due medaglie di bronzo sono la seconda medaglia di bronzo è stata concessa perché durante la guerra ha riportato delle gravissime ferite e non voleva nemmeno andare a essere trasportato all'ospedale ma i suoi superiori lo hanno conscettato ad andare all'ospedale e in conseguenza di quelle ferite poi quando è rientrato in Italia è deceduto mentre era in servizio nel comune di Cefalù faceva servizio è rimasto è morto all'età di 28 anni quindi giovanissimo senza ancora essersi sposato quindi è morto ed è stato seppellito nel 1900 tra l'altro non si riescono nemmeno a trovare i resti perché capite dopo 100 anni quindi dove sono un senso di appartenenza allo Stato che i giovani d'oggi non hanno più purtroppo sì ci augureremmo e noi abbiamo fatto questa cerimonia proprio perché verso i giovani possa essere d'esempio e l'abbiamo voluto fare qua proprio in questo sito dove i giovani è un sito dove vengono molti giovani frequentati dai giovani dai ragazzi c'è una scuola calcio quindi vuole essere proprio d'esempio verso i ragazzi questo ecco perché il piazzale questo piazzale è proprio indicativo sotto questo aspetto io ritengo che a distanza di tempo anche io quindi figurarsi tutti gli altri scopriamo di questo giovane valoroso che nella prima guerra mondiale addirittura è riuscito ad ottenere due medaglie di bronzo al merito quindi oggi a distanza di anni la famiglia ci fa riscoprire questo grande personaggio e quindi è dovere da parte dell'amministrazione dare un giusto riconoscimento a quello che è stato il valore militare di questo giovane noi abbiamo pensato di intitolare intestare lui la piazzetta antistante lo stadio comunale come segno di riconoscimento tangibile a quello che è stato il suo momento eroico nella storia e quindi nella prima guerra mondiale quindi intitoliamo oggi questa piazzetta al valore di questo militare ma nello stesso tempo ci stiamo preparando ad inaugurare il nuovo stadio comunale che avverrà il 7 giugno alle 16.30 alla presenza di autorità civile e militare da Carini spostiamoci a Palermo dove i dipendenti Amat e quindi non riguarda soltanto la città di Palermo ma i dipendenti Amat sono davvero da tutta la provincia appartenenti a FIT CISL non ricevono lo stipendio da mesi chiedono alla regione e al comune di intervenire al più presto i 1700 dipendenti dell'Amat non hanno percepito lo stipendio di maggio a causa del taglio del fido bancario della conseguente crisi di liquidità a denunciarlo sono i sindacati di categoria FIT CGL FIT CISL UIL Trasporti Orsa e CISAL dopo che Banca Nuova ha deciso di ridurre drasticamente il fido concesso all'Amat non abbiamo nessuna certezza per il futuro dai segnali che giungono la mancanza di liquidità potrebbe aggravarsi a causa anche dei tagli dei contributi regionali il 6% per quest'anno e un ulteriore 4% per il 2015 spiegano Salvatore Girgenti segretario aziendale FIT CISL Amat e Mimmo Perrone segretario provinciale FIT CISL si tratta di un problema che riguarda tutte le aziende del trasporto pubblico locale della Sicilia ad Agrigento ad esempio i lavoratori attendono lo stipendio da dicembre i dipendenti interbus di Palermo Catania Caltanissetta ed Enna invece da aprile su Amat Girgenti e Perrone sollecitano il comune di Palermo ad intervenire presso la tesoreria dell'Amat al fine di trovare una soluzione alla regione invece chiedono di erogare subito la seconda trimestralità del contributo regionale che darebbe ossigeno alle casse dell'Amat Adesso apriamo una pagina che riguarda Balastate 1 sulla questione rifiuti i grellini sostengono che il comune di Castellammare è troppo indebitato col pagamento del servizio per la raccolta dei rifiuti Il comune di Castellammare del Golfo non paga le fatture per il servizio di raccolta dei rifiuti dal gennaio del 2014 e questo quanto ha preso durante lo scorso consiglio comunale addetta dello stesso primo cittadino Nicolo Cuppola Sebbene il sindaco stia cercando di prendere provvedimenti ancora tante sono le incertezze a riguardo Il comune ad oggi sborso ogni mese circa 220.000 euro per il servizio di raccolta divenendo così conteggiando i mesi precedenti non ancora pagati debitore di oltre un milione di euro denaro che dovrà essere recuperato entro l'anno dei tributi versati dai cittadini Nel consiglio comunale svoltosi nei giorni scorsi sono state approvate d'urgenza le scadenze per il pagamento della Tari ex Tares ma su quest'ultimo tributo ancora non vi è un vero e proprio regolamento che lo disciplini ad oggi la prima scadenza è fissata per il 30 giugno la seconda per il 30 settembre e la terza per il 30 dicembre sono in tanti a scommettere che c'è il rischio di non recuperare l'intera somma dovuta per il servizio di raccolta rifiuti evento straordinario che se si dovesse verificare potrebbe trovare l'unica soluzione in un anticipo di tesoriera facendo indebitare il comune stesso ma intanto questa mattina a Castellammare è stato presentato il programma estivo con largo anticipo cosa inusuale perché nessun altro paese del territorio pensa neppure a presentarlo il programma estivo considerato che oggi è soltanto il 29 maggio invece a Castellammare lo hanno presentato un programma di grande qualità i festeggiamenti per l'estate gli intrattenimenti inizieranno giorno 1 giugno per terminare il 21 settembre e questo grazie ad una grande organizzazione dimostrata dall'amministrazione comunale ma anche alla collaborazione con sponsor privati è una dimostrazione di come si può amministrare bene soprattutto nel settore turistico nei nostri paesi senza grossi esborsi di capitali pubblici presentato presentato questa mattina a Castellammare del Golfo il cartellone degli eventi in programma per l'estate decine e decine di appuntamenti che copriranno l'intera stagione dal prossimo primo giugno fino al 21 settembre manifestazioni sociali artistiche culturali distribuite in tutte le principali zone del paese compresa Scopello la conferenza stampa è stata presenziata dall'assessore al turismo Rossana Augugliaro tra gli appuntamenti più importanti dal 5 all'8 giugno la prima edizione di Filo in Festa Festival del ricamo siciliano dal 4 al 6 luglio Street Food Fish Fest ci sarà tutto il sapore del Mediterraneo e del pescato di stagione dal 27 al 30 luglio spazio alla musica con il Nomos Jazz Summer Festival il 10 agosto la notte di San Lorenzo Sorsi di Stelle appuntamento dell'estate astronomica il 22 agosto il concerto di Noah che presenterà il suo ultimo progetto discografico infine spazio al cinema con il Cici Film Fest il festival cinematografico giunto alla quarta edizione diciamo che è stato un lavoro veramente certosino anche di ricerca di soldi appunto perché abbiamo dovuto attingere a vari sponsor devo dire che sono stati tutti entusiasti perché il programma merita per cui non è stato difficile recuperare gli sponsor ma era l'unico modo per poter riuscire a fare un programma di questo tipo con le risorse insomma che si sa bene quali sono quelle dei comuni però penso che anche se comunque abbiamo investito qualcosa meriti tutto perché chiaramente se vogliamo che Castellammare sia un paese turistico dobbiamo dare un'offerta di qualità più che di quantità naturalmente oltre questi eventi nel programma ci sono tutta una serie di saggi di commedia di spettacolo che io non ho neanche inserito perché quelle fanno parte e ci devono essere fanno parte naturalmente di tutta l'estate perché il turista che arriva comunque ogni sera probabilmente ogni sera avrà qualcosa da fare su questo non c'è dubbio a prescindere dagli eventi immagino di capire che voi volete abituare chi arriva da fuori a venire a Castellammare cioè Castellammare deve diventare secondo il vostro concetto almeno per quanto state esprimendo una cittadina del territorio certo infatti noi stiamo anche il fatto che vogliamo anche pubblicizzare i nostri eventi che devono essere degli eventi condivisi noi abbiamo condiviso parte del programma e continueremo a farlo con Alcamo con Balestrate perché appunto vogliamo che il turista che arriva a Castellammare cioè non sia chiuso a Castellammare ma intanto che a Castellammare trovi un'offerta di qualità per cui non ha motivo di muoversi se vuole però vista la fortuna che abbiamo perché Castellammare si trova al centro di siti veramente rilevanti penso che è la ciliegina sulla torta trovare un programma di questa qualità Ammette che fare assessore al turismo a Castellammare del Golfo se si ha un minimo di raziocinio insomma sia un grande vantaggio sì sicuramente 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 ci aiuta quello che già abbiamo abbiamo veramente tanto però purtroppo l'abbiamo sempre avuto questo tanto però c'era bisogno c'è bisogno speriamo di riuscirci a dare qualcosina in più che possa effettivamente fare arrivare questo paese dove merita perché merita molto di più probabilmente di quello che ha avuto finora speriamo di riuscirci con questo programma Dubbiamente un bel programma soprattutto per la tempestività per l'organizzazione Castellammare è un paese vivo e non a caso stanno aprendo diverse attività commerciali proprio questa mattina facendo il servizio siamo accorti di due attività commerciali nel centro della piazza sempre a tema turistico e quindi evidentemente la gente è incoraggiata ad aprire attività commerciali è incoraggiata ad investire sulla propria tasca e sulla propria persona quando si nota che il comune prova a darsi da fare è un paese come Castellammare del Golfo che ha pochi uguali al mondo a mio giro per la sua bellezza se è aiutato dalle amministrazioni non può far altro che decollare così come tutto il territorio gran parte della Sicilia sono cambiamo argomento 5 rebuste presentate negli uffici di Palazzo Zino a Palermo per la realizzazione della 390esima edizione del festino di Santa Rosalia sono scaduti i termini per la consegna delle offerte economiche dei progetti che saranno valutati nei prossimi giorni dalla commissione esaminatrice la cifra dell'appalto quest'anno è di 330 mila euro leggermente inferiore rispetto al 2013 l'assessore all'ambiente del comune di Alcamo Salvatore Cusumano intende procedere con i lavori che possano restituire alla città il giusto valore storico e avvia il progetto Regenerezione 14 Alcamo verso la direzione della riqualificazione urbana con il progetto sinergico tra lavori pubblici e cultura e questo quanto affermato dall'assessore all'ambiente Salvatore Cusumano che è sostenuto dall'assessore alla cultura Selene Grimaudo e da un gruppo di giovani ha dato il via all'iniziativa Regenerection 14 per il recupero creativo degli spazi urbani risolti il progetto ha spiegato intende proporre alla città di Alcamo una nuova visione di sé a partire dalla reinterpretazione creativa di spazi urbani centrali e di risolti si vuole regalare agli Alcamesi un nuovo specchio nel quale riflettersi o meglio riflettere sotto forma di ritratto urbano la stessa situazione che ad oggi grava su molte strutture lasciate allo sbaraglio l'idea è tanto semplice quanto nuova e consiste nell'affidare ad artisti l'abbellimento dei muri del centro storico che versano in condizioni di degrado ed incuria con l'obiettivo di rigenerare attraverso l'arte urbana l'igiene del panorama visivo della città e restituire allo stesso tempo un rinnovato autoritratto proponendo una nuova immagine di sé contemporanea ed aggiornata l'assessore Cusumano rende noto che il progetto prenderà il via il 2 giugno a seguire sarà fatto un bando sul decoro urbano per stimolare i cittadini a rinnovare i prospetti e renderli più efficienti dal punto di vista energetico E adesso in tema d'estate parliamo di Mondello il Movimento 5 Stelle fa sapere che stanno montando le cabine senza autorizzazione allertati nuovamente i vigili dopo il loro silenzio delle scorse settimane Quello in atto a Mondello è un vero e proprio colpo di mano nessuna autorizzazione è mai arrivata per innalzare le cabine a confermarlo lo stesso sportello unico per le attività produttive del comune il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle e l'Ars fa sentire la sua voce sulla questione cabine che ha visto un'improvvisa accelerazione con il montaggio di alcune strutture nella zona a ridosso della piazza ad oggi affermano i deputati 5 Stelle l'unica strada che può portare all'inalzamento di queste strutture è quella del rilascio della concessione edilizia cosa che non è mai avvenuta i parlamentari Giampiero Trizzino e Giorgio Giaccio hanno fatto un sopralluogo nella zona e chiesto l'intervento dei vigili che hanno assicurato di prendere giusti provvedimenti presso gli uffici del SUAP in realtà hanno dichiarato i deputati i vigili già sono stati al SUAP ma di risultati niente ed è assurdo commentano che controlli che debbano essere fatti in automatico debbano essere sollecitati ripetutamente a dare il via libera al montaggio delle cabine insomma dovrà essere una concessione edilizia rilasciata dal comune la questione mondello libera è uno dei punti segnati rosso nell'agenda del movimento che mira a restituire alla città la spiaggia negata da oltre un secolo per questo ha avviato una petizione che ha raccolto 7000 firme mentre sta già studiando altre azioni per coinvolgere tutta la cittadinanza e adesso un risvolto dell'omicidio di Daniele discrede sapete che l'uomo è un commerciante ucciso davanti la bambina sabato scorso dalle immagini poco chiare che riprendono il momento dell'uccisione sembra che l'assassino abbia sparato da vicino la squadra mobile di Palermo starebbe vaiando un video girato dalle telecamere di sorveglianza della zona che avrebbe ripreso i tragici momenti dell'uccisione di Daniele discrede l'uomo ucciso a colpi di pistola da tre malviventi lo scorso sabato in via Roccazzo le immagini del video purtroppo sono poco nitide per via del buio e non si distinguerebbe il momento in cui viene premuto il grilletto gli uomini erano incappucciati e si vedrebbe uno di loro agitare l'arma per aria in maniera disordinata dalle indagini è comunque il risultato che gli assassini hanno sparato da vicino una distanza inferiore ad un metro ma non si riesce ancora a capire se si sia trattato di una rapina o di un'esecuzione camuffata al momento tutte le ipotesi rimangono aperte si stanno effettuando verifiche sul patrimonio e sui tabulati telefonici di discrede che comunque era incensurato e che alcuni mesi fa aveva ceduto alla sua azienda specializzata nella rivendita all'ingrosso di bibite pur mantenendo un ruolo nella nuova attività intanto l'autosata per scappare una Citroen C4 rubata nelle scorse settimane è stata ritrovata bruciata nei pressi di Bello Lampo oggi durante il funerale familiari e amici daranno il loro ultimo saluto a Daniele intanto è in programma domani sera l'ultima giornata del campionato di Serie B le partite inizieranno tutte le 20 e 30 il Palermo già promosso in A da diverse settimane affronterà in quest'ultimo impegno casalingo il Crotone che ancora oggi è in corsa per i playoff una partita importante dunque con il Palermo a caccia delle record di punti in Serie B dovrebbero essere 88 con la vittoria i calabresi che non vogliono perdere la possibilità di conquistare invece i playoff per andare in Serie A la sfida del Barbera e non solo ha parlato questa mattina in una intervista realizzata dal sito del Palermo Calcio il tecnico a Rosanero Beppe Iachini tre punti che ricerchiamo sempre ma nello stesso tempo sappiamo che abbiamo il doppio risultato è chiaro che ci facerebbe fare il massimo da questa partita però l'affrontiamo con grande entusiasmo spirito giusto anche se non è facile dopo aver raggiunto l'obiettivo a cinque giornate della fine mantenere sempre la stessa applicazione la stessa ferocia però i ragazzi stanno cercando di mettercela tutta ugualmente e quindi vogliamo che l'ultima giornata ci possa essere anche un bel abbraccio con i nostri tifosi per alzare la coppa e brindare anche a quest'ultimo record molto importante per la storia del Palermo la partita d'andata a Crotone è stata una delle svolte della stagione che ha permesso alla squadra di capire che era dal vero la dominatrice del campionato è stata una partita che comunque ci ha fatto capire che eravamo sulla strada giusta che avevamo trovato un'organizzazione di gioco importante e che andando a lavorare bene alla sosta di gennaio dopo Natale avremmo avuto modo di poter andare a migliorare ancora a crescere come personalità come organizzazione come mentalità e i frutti se ne sono visti poi al giorno di ritorno il fatto di avere riavvicinato i tifosi a questa squadra è forse il record di cui va più orgoglioso mister Iachini beh scegliere non è facile perché veramente ce ne sono stati tanti la crescita di tanti ragazzi che sono migliorati in maniera esponenziale sotto l'aspetto tattico fisico delle conoscenze la compattezza della squadra del gruppo la crescita sicuramente della fiducia dell'autostima soprattutto ovviamente anche l'aver riportato i nostri tifosi al nostro fianco perché per la società per la squadra sono un patrimonio importante anche per il futuro Quarta promozione per mister Iachini adesso la sfida più bella confermarsi nella massima serie beh certo ci tenevo a questa in maniera particolare perché con il presidente Zamparini c'è un rapporto di stima da tanti anni quindi ero coinvolto anche in maniera emotiva personale oltre che professionale e in più tornavo in una piazza dove sono vissuto una bella pagina sportiva da calciatore quindi regalare una bella soddisfazione insieme ai ragazzi e ai nostri tifosi era un motivo di orgoglio e di felicità ci siamo riusciti ora avremo modo di preparare la prossima stagione che dovrà essere affrontata con grande entusiasmo e portando avanti quei valori e quell'organizzazione e quella mentalità che ci ha visto in questo campionato trionfare in maniera meritata partita tranquilla senza nessuna prospettiva invece quella delle Trapani i Granata di Boscaglia affrontano il Brescia anche loro in casa un campionato comunque bello quello del Trapani che ha conquistato una salvezza molto tranquilla addirittura ha pensato anche a giocarsi la promozione in Serie A però insomma sarebbe stato esagerato questa era l'ultima notizia vi ringrazio per aver scelto Studio TV7 vi ricordo che l'informazione oltre che con il TG completo ogni ora su TV7 non da anche con gli studio flash tre minuti di informazione ogni ora grazie per la cortese attenzione e a tutti buon proseguimento a tutti i programmi grazie a tutti Grazie a tutti.